Mi aspetto una bella manifestazione a sostegno delle amministrative che si svolgeranno a Brescia il 25 e 26 di maggio. Stiamo facendo manifestazioni in tutti i paesi che vanno al voto e Brescia è il capoluogo più importante di Lombardia. Direi che il tema della giustizia è un tema ricorrente nelle nostre manifestazioni, visti gli attacchi che il nostro leader, una volta premier e speriamo presto, sta subendo. Quindi credo che faccia parte di un progetto che certa giustizia ha in mente nei confronti del leader del nostro partito e che naturalmente ci spinge alla difesa. Io credo che ne beneficerà il candidato sindaco anche perché il progetto che prevede l'intervento di domani è finalizzato a sostenere il buon lavoro che ha fatto il sindaco di Brescia in questi cinque anni e naturalmente ci candidiamo per proseguire questo buon governo.